Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti in questo secondo episodio di Minecraft Qui con me oggi c'è lui, vedete la scritta Mi ha sotterrato qua sotto e io non ho strumenti Non mi fare costruire una crafting table qua sotto perché ho sia gli sticchetti che la cobblestone C'è scritto nei commenti che quelli zombie brutti si chiamano Asks Le barbabietole si craftano, cioè si craftano nelle ciotole, non si barbabietole E infatti fanno tipo la zuppa di barbabietole a quanto pare E poi ci avete scritto un nome Ragazzi dovete essere più attivi nei commenti, che cosa sta succedendo? Nel video di lol più commenti invece in questo no Quindi dovete svegliarvi, dovete darvi la mossa L'idea mia di mettere il titolo è Back to the Minecraft, tipo ispirato a Back to the Future Future Però scrivetemi altri titoli Perché se no come si fa a portare avanti una serie Allora quest'oggi che cosa faremo? Non si sa perché dovete darci gli obiettivi Questa qua è tipo una premessa che durerà due minuti Poi non mi stresso più, non mi romperò più i cogli... Che cosa c'è qua? Ho visto una specie di caverna Guarda qui, guarda qui Io sono già in una caverna Mi sono buttato giù da quella fianco No, 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 sali, sali, sali Vieni, vieni, vieni Oddio, ma qui c'è già la lava Qui scende giù un casino Ma tu la vedi le particelle della sabbia? Che senso? Grazie Grazie Che particelle della sabbia Forse non hai attivato le particelle Ma proprio si vede tipo la sabbia che cola dalla sabbia Ah, sì, 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 la vedo, la vedo Ok E qua c'era una caverna Una specie di caverna Che praticamente se distruggo il blocco di sabbia Mi cade tutta addosso Tutta Oh, cazzo Cazzo no Che figato Praticamente abbiamo coperto una caverna Adesso questa caverna Non si può più andare Non si può più andare No, non si può andare Ok, allora direi che prima dell'ora di costruire una casa O comunque cercare un territorio Potremmo Ecco, uno scaretro c'è Potremmo esplorare un pochino Un pochino in caverna Piazziamo due fornaci qui e là Una crafting table Ci costruiamo due strumenti Ci costruiamo due strumenti E andiamo a picconare Che ne dici? Sì Che è il Christon Creeper Però era meglio quell'altra caverna Che ti ho fatto vedere io Eh, molto probabilmente saranno No Quanto cazzo di vita Allora, torniamo indietro e andiamo di là Allora ragazzi, eccoci tornati qua E abbiamo fatto, diciamo, un base camp Un fallo di Dark Souls Ma tu dove sei? Ero lì a prendere il carpone Proprio dietro le ceste E non l'avevamo visto Eh, lì ho visto un Creeper Arrampicato nel canyon Allora Qui abbiamo fatto Ho reso un po' la zona Ma tu lo sapevi che Ormai per salire i blocchi Non c'è bisogno di saltare Sì, lo so L'ho disattivato perché mi dà fastidio Dicevo Sì, mi stavo buttando nella lava Poi ho Ho reso un po' la zona più percorribile Ho fatto un ponte per passare sulla lava Fermo! Allora Mi devo dare questo Questo E questo Avevo 16 carote E fatti pure del pane Povero Grano Ok Adesso abbiamo un po' di cibo E nel frattempo Sono andato a prendere Giusto poco 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 Di carbone Per farmi Due o tre torce No, io ne ho 24 Ah, ne ho 24 Io ne ho 26 Però ho un bel po' di carbone Che mi sono preso nelle ceste Ma io non ho più legna Aspetta, aspetta Troppo tre dovevi un po' di torce No, ne ho 14 Tiè Adesso ne ho 46 Esatto Anche io 46 Ne hai visto? La matematica non è un'opinione Disse Non so chi Tu hai detto che Questa Questa caverna Era molto proficua Da dove andiamo? Io Qui c'era una strada Vai Andiamo da questa strada Ok Aspetta Giriamo Bella Andiamo Dobbiamo andare Da qualche parte Allora No Non mi dire Guarda che Secondo me andremo in quella caverna Di nuovo Ti ho perso Dove sei andato C'erano le torce Sì C'erano le torce Sto prendendo del ferro Che c'è E nel frattempo Io prendo Del carbone Allora Ho preso il granito La granita Buona La diorite Che è tipo Una bestia La granite Diorite Giusto Diorite Diorite Mannaggia Oh Vabbè Direi che abbiamo preso abbastanza materiali Di merda Quindi vai Ti seguo Piccolo boy scout Che non sei altro Ai Perfrodo Sì C'è un altro qui Che si mimetizzava Non vedrete un cazzo Secondo me E muori Mamma mia Quante fracce E c'è Ferro Sì C'è Tiziano E 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 Il tuo corpo Sa difendermi Ma muore Dalla voglia Che ora Mai Oh Ho trovato una caverna Lo sa Ma siamo in una caverna No Ho trovato un'altra Ma il continuo di questo Pocca roia Non posso aumentare Sei un genio Qui non si salta il ferro Qui siamo poveri Hai avuto culo Ma Oddio Hai sentito? L'ho sentito Ma è a casa mia O è nel gioco No no A meno che non abitiamo Tutti e due in Puglia Io non lo sapevo Vabbè Tu pensi Da quella parte Io Mi esploro Da questa parte Ma la smettono Questi tuoni Che cazzo guardi Creeper Basta Guarda dove siamo In Thailandia Boh qua Sta per fare Il diluvio universale Mi sa Io Ho trovato Cioè Ho trovato Aver trovato ferro Che non sto Minimamente cagando Di striscio Ma come Io lo sto raccogliando tutto Giustamente Tu registri Io devo fare La parte divertente Da nano Lo sapevi questo Sì Quando tu ho ingaggiato Sapevi che dovevi Prendere tutti i materiali No è perché Ho giusto un po' di Vabbè lo sai Dove sono io no? Non lo so Io Deve seguire le torce Si va verso il basso Presente dove Ci sono lo zombie Dalla porta opposta Sanna C'è un coso Che va verso giù Vedi le torce Scendo E muore C'è della lava Quindi Molto probabilmente Si va giù Se puoi scendere Se è della giù Probabilmente Si va a lava Sì Esattamente Ragazzi Siete passati In il camion Damiano? Ci siete passati Passateci Vi aprirò Una finestra Qui Dove c'è il piccone Faccio Faccio pure Il quadratino Qua Qua in questi due quadrati Vi aprirò La finestra Di Damiano No scherzo In questi due no In questi qua Che mi metto Così Dovete passarci Perché fa Youtube pop E rompe il cazzo E adesso sta lavorando A un progetto speciale Che non posso dirvi Altrimenti Mi uccide Molto speciale Lui è l'unico Che lo sa Quindi anche lui È un ragazzo speciale Merda Un creep Oddio Io non ho sentito niente Quindi Sì Non sei morto Ho un cuore Ah Però non ho sentito Di esploderlo Quindi siamo Abbastanza lontani Ah io sono Praticamente Dalle cesto Sono tornato Comunque Non ho parlato Prima perché C'era stata Un'intrusione Ma Sì Sto facendo Un progetto Molto ambizioso Come 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 Vieni Vieni da Me Hai visto Queste sono Le ramificazioni Che trovo io Perché Che fanno Cagare Perché Minchia Guarda ancora Quanto si scende Da questa Ma che Culo Invidioso Guarda che Culo Guarda Poi Trovato io Come Dicevi che Questa Caverna Faceva Che cosa C'era Puttana Misera Non ci capisco Più niente In questa Caverna Anche io Sto impazzendo Troppo Ramificata Poi c'è Quale Che sale Che scende Ho trovato Un altro Un altro Pezzo Un altro Pezzo Sto raccogliendo Il ferro Praticamente Eh Vabbè Dai Ti aiuto a raccogliere Ferro Che siamo nella stessa venatura Ragazzi Vi ricordo Di nuovo Se Giavolo Foste Dimenticato Di passare Nel mio canale Subito Mi piace Questo video Prima che L'ho dimenticato Perché intanto Sarà un video Figo Perché ci sono io E c'è E poi Seconda cosa Commentateci qua sotto Scrivendoci Le varie novità Della 1.6 Perché non penso Che le novità Si siano fermate Lì A quello che abbiamo visto Cioè Lo zombie Che si chiama Aski E E Le barbe Ma solo a me Sembra il nome Di un cane A me sembra Il nome di Ma no Forse Forse è la razza Di un cane Non lo so Ma dai Non sono informato Su cani Grazie Ho trovato La pislassoli Utili Quanto Tu hai Peccone inferro Un artifacts Eh Sì C'ho il peccone inferro Viene da questa parte C'è il redstone Hai Hai i crafting table Vero No Ovviamente Eh Ho un pezzo di legno C'è oro Ci sono Lapislassoli Due coccodrilli Ed un'ora Due piccoli Sarpenti È un'aquila Reale Oddio Ma per un attimo Mi era sembrato Una tromba Qualcuno che hai fatto Non lo so Il gatto Il topo L'elefante Non manca più Nessuno Solo Si vedono I diamanti Allora ragazzi Io direi che per questo video Possa essere tutto Prossimo episodio Troveremo sicuramente I diamanti Molto probabilmente Tipo Continueremo a prendere materiali Qua In off camera Perché se no Non ci sbrigeremo Mai mai più E Se troviamo diamanti Inizieremo a registrare Perché hai chiuso l'acqua Molto probabilmente Torneremo Alla base Costruiremo Un secchio Perché ci serve Il secchio Perché ci serve Dillo tu Perché dobbiamo Prendere la lava Giusto Non dobbiamo Prendere la lava Commentateci qua sotto Con un bel nome Ho visto un creeper Con un bel nome Per la serie Già La mia Back Di minecraft Se ne avete uno migliore Fatemi avanti Per questo episodio è tutto Lasciate un mi piace Passate il commento Ciao ciao Questi messaggi subliminali Vuoi salutare? Ciao 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 Ciao